il tuo salvacena perfetto! questo sono crostoni di pane all'uovo al forno e sono pure i ripieni guardate com'è bello croccante andiamola a tagliare mamma mia guardate com'è bello mamma mia mamma mia prosciutto cuota e mozzarella a fine romana partiamo proprio dal pane perché questo essendo una ricetta di recupero può essere anche un pane vecchio questo ci aveva purtroppo già anche due giorni non è proprio vecchio 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 allora ma che cosa andiamo a fare io mi vado a prendere una bella placca da forno che è una cosa veloce e salvacena allora andiamoci a ricavare delle fette di pane ma siccome questa qua è anche un poco troppo forse grande vabbè non fa niente ce la rimanga così la fettina incominciamoci a tagliare le fettine di pane di questo spessore qua ora prendete 5-6 uovo o 7 uovo dipende da quante fettine di pane avete mettiamo un pochettino di salto con poche pepe aspetta un attimo quando fanno poche produsine o produsine ad essere bella fine 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 mi raccomando ce lo mettiamo dentro e una bella rattatelle parmigiano reggiano dentro una bella frusta una bella furchetta e ammischiamo tutte cose una volta che avete sbattuto le uvo e pigliate la placca allora ci mettete giusto un filino d'olio all'interno e con la manina bella pulita e sistematina facete una bella sbatella ora prendete le fettine di pane a una alla volta e andiamo io a fare il bagnetto tanto bellino e ce l'andiamo a sistemare tanto bello qua dentro fatto le prime fette vedete qui? qui ci sono le prime fette di base ora le altre fettine ce le ho qui vedete? ora guardatemi a me io nel frigorifero avevo questo quindi è veramente una ricetta di regolio dopo che è prosciutto cotto e spalla cotta e ce la mettiamo su ogni fettine tanto bellino vedete? facciamo prima questo e poi vi faccio vedere che facciamo poi tenevo proprio da tre giorni questa mozzarella che ormai è diventata proprio una schifezza però non fa niente non si butta mai niente fin quando è ancora tutto buono poi io lo spreco non ci deve proprio essere in cucina prendiamo e ci mettete un po' di mozzarella un po' di scamorzo un po' di fior di latte quello che voi volete e quello che voi a casa avete mo fagli vedere qui amore guarda guarda abbiamo fatto così mo non dobbiamo fare altro che prendere le altre fettine di pane e andare a cercare le fettine di pane uguale ok uguali mamma mia ma come sto parlando proprio una schifezza proprio prendete e andate a chiudere queste altre fettine fatto pure questo voglio mo ci vado a mettere una bella spolverata generosa di parmigiano voglio mettere pure pecorine non fa niente quello che avete va bene uguale un filino d'olio pure sopra e adesso vieni a me amore mio amore mio giustamente ti riferite a mia moglie non sia mai non sia mai sennò mia moglie mi fanno la capata adesso andiamo nel forno il forno l'ho acceso a 200 gradi il tempo che diventa una bella croccante che si scioglie la mozzarella e ci arrecchiamo e dopo 20 minuti guardate come viene bella attenzione questo forno statico quindi è diventato pure bello croccantino anche sotto e mo che c'è rimasto solamente voglio la giàizzare e la massaggiare perchè questo è una salvacena fino a Romuna eeeh ma è stato un sacrificio ma è stato un sacrificio comunque non è fritta ah 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 almeno questa che questa è tranquillamente una mozzarella in carrozza al forno però fatta con il prosciutto e la mozzarella vediamo se fila un pochettino mamma mia guardate qua assa caspita se non fila oh ba basta e come filo eeeh io voglio rimanere povero le ricette povere sono anche più buone quante volte ve l'ho detto buon appetito e facetelo pure pure buon appetito e facetelo pure pure grazie grazie